Grazie all'interessamento del Ministro Di Maio alla situazione delle imprese sotto i riflettori del Mise, il 21 sarò al fianco dei lavoratori nell'incontro convocato con i rappresentanti della Treofan Italy nel tavolo di confronto convocato dal Ministro. Lo dichiara Nicola Kunzo, parlamentare eletto con il Movimento 5 Stelle. In queste settimane sta seguendo la situazione della Cooper Standard che si occupa di prodotti auto in gran parte fuori produzione e che rischia la riduzione del personale a causa del decremento delle commesse. Ma quello che desta meraviglia è la recentissima questione della Treofan Italy SPA che produce materiale plastico acquisita di recente da una società indiana. Il nuovo assetto societario minaccia di spostare la produzione in un'altra regione lasciando in questo modo 65 famiglie sull'astrico nonostante i bilanci in ordine e altri utili. Va detto poi che Treofan è un'azienda che ha beneficiato di aiuto di Stato. Con il Ministro Di Maio in contatto continuo con le rappresentanze sindacali delle maestranze Acunzo è impegnato affinché si eviti questo ennesimo dramma. La situazione è problematica e dei risvolti imprevedibili. Quel che resta è il dramma umano che stanno subendo queste famiglie e farò di tutto per quello che è nelle mie possibilità perché situazioni del genere vengano superate.